eeeh qua eeeh qua la mia moglie di più poltrone per allora io devo riprendere le potele? vuole dire tanto per capirci ci spiegate un attimo quanto tu oltre a mangiare oltre a mangiare ma la legge elettorale ce l'ha spiegata ma io non so un bicho di più di più ahia, tararara ha detto quella che l'ha inventata, ha detto una porcata vabbè questo è un giudizio che non si appartiene le modalità ah è vero si che ha detto lui è in desiderazione autentica la nuova legge elettorale ha nabolito la soglia dei 40 anni al senato no no è la candidata grazie grazie piano questa è da segnare allora la parola a voi io volevo dire delle cose io mi trovo in una situazione un po' imbarazzante da 5 anni poi intimamente anche un po' di più perché in 3 classi su 5 insegno diritto pubblico in particolare diritto costituzionale ditemi voi qual è il diritto che devo insegnare è come se non c'è il malattore che non è il diritto no perché se Marcello ha trovato un estimatore io voglio